benvenuti a questo canale youtube di modellismo ferroviario tratteremo tutto ciò che riguarda il modellismo ferroviario a partire dalle tecniche daremo alcuni consigli dimostreremo alcune novità discuteremo su alcune possibili soluzioni a problemi che si presentano durante la costruzione in plastico la manutenzione dei rotabili delle locomotive degli scambi la parte elettrica il digitale i suoni tutto ciò appunto che può entrare a far gioco di questo bellissimo hobby spero che gradirete i nostri video vi invito a commentarli a porci delle domande faremo dei video anche sulla base di quelle che saranno poi le vostre richieste e ovviamente vi invito ad iscrivervi al canale per non perdere i prossimi video ciao a tutti